Euregio significa montagna viva, montagna che vuole e pretende di avere un futuro e Reinold Messner è un personaggio che incarna a pieno queste aspirazioni. La quinta edizione della festa dell'Euregio, Euregio Festa, è culminata con l'incontro l'Euregio secondo Messner a colloquio con il re degli 8000. Sono stati i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Fugatti e Compatcher, ad accogliere il grande alpinista davanti ad una numerosissima platea. Un personaggio anche scomodo, ma dal pensiero coraggioso anche sulla questione orsi. L'orso e il lupo sono un grande problema per noi tutti che viviamo in montagna e dobbiamo finalmente trovare una pace fra animalisti e contadini di montagna. Se i contadini non possono più stare perché l'orso e il lupo distrugge i greggi, significa che non ci sarà nessuno a tutelare la montagna, la natura della montagna. La cultura per sopravvivere in montagna è rimasta in Italia, nel Trentino, in Austria, nel Tirolo, da noi in Tirolo naturalmente, per fortuna, però il resto è già sotto tutela di nessuno. Gli animalisti devono capire che serve un equilibrio in tutto quello che facciamo con la natura e i politici devono capire che non devono seguire sempre le maggioranze. Gli animalisti sono più di quelli che tutelano veramente la montagna. È una pecora, è un animale come l'orso o anche il lupo. Reynold Messner, primo alpinista che è riuscito a salire tutti gli 8 mila, dà la sua lettura al percorso dell'Euregio, nato ufficialmente nel 2011 e che si trova oggi a vivere una maturità tra la storia passata e la contemporaneità, sempre più contaminata da problematiche future. Dobbiamo trovare un equilibrio anche sulla velocità. Nel turismo non dobbiamo seguire la stessa velocità, l'aggressione come in città, dobbiamo trovare il silenzio, la lentezza e specialmente un occhio per quello che è la bellezza della natura. E noi nel Trentino, nel Sud Tirolo, nel Tirolo dobbiamo difendere il paesaggio. Noi non abbiamo olio, non abbiamo carbone, abbiamo un paesaggio unico che bisogna difenderlo.